Si è parlato di progetti di formazione lavorativa per gli studenti delle scuole cittadine e anche della situazione del lavoro in città nel corso dell'incontro organizzato dal Consolato dei Maestri del Lavoro di Caltanissetta insieme all'Unione degli Insigniti al Merito della Repubblica con il colonnello Stefano Gesuelli, comandante provinciale della Guardia di Finanza. Al centro del dibattito argomenti quali il rispetto delle regole per una sana cultura del lavoro, i progetti per l'orientamento dei giovani e per lo sviluppo degli ambienti di apprendimento, per la formazione culturale, tecnica, scientifica e l'etica del lavoro anche attraverso l'apporto di esperti di settore. Nel corso dell'incontro è stato premiato lo studente del Rapisardi Matteo Castronovo per il successo ottenuto nella gara nazionale Costruzioni Ambiente e Territorio. Nell'occasione sono stati presentati i consigli direttivi delle associazioni. Presenti all'incontro una delegazione del consiglio direttivo del consolato di cui facevano parte il console presidente dell'Unimri Francesco Cagnina, il vice Calogero De Fraia, il segretario Letterio Iachette, il tesoriere Elio Drogo oltre a Carmelo Mosca e Rosario Scancarello.